I nostri titoli di Stato sono di nuovo attraenti come a luglio del 2011, prima che si scatenasse l'attacco speculativo che poi avrebbe portato alla fine del governo Berlusconi. BOT e BTP hanno i rendimenti più vicini agli equivalenti titoli tedeschi da oltre due anni a questa parte. Ad aiutare i titoli di Stato italiani è la situazione economica del bel paese. I dati degli ultimi giorni fanno presagire una ripresa dell'attività nell'ultimo scorcio di anno, che oltre a beneficiare occupazione e investimenti, rende più sostenibile il nostro enorme debito pubblico. Insomma, la fine della recessione, ormai alle porte dopo due lunghi anni, instilla fiducia e ottimismo negli operatori finanziari più di ogni altra cosa. Le notizie di oggi sul fronte delle finanze pubbliche, infatti, in realtà non sono molto incoraggianti. Nonostante il nuovo aumento delle entrate tributarie, cioè imposte, tasse e contributi, a giugno il debito pubblico ha continuato a crescere. Buone per i nostri conti, invece, appaiono le decisioni comunicate oggi dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, che prevedono tali del 25% alle spese per le auto blu. La vendita di tre aerei di Stato e il contestuale dimezzamento delle ore di volo, nonché la razionalizzazione dei costi del personale di Palazzo Chigi. L'annuncio del Premier, però, non segna un miglioramento del clima tra i due principali partiti della maggioranza che sostengono il suo esecutivo. L'accordo sulla riforma dell'Imu, che dovrà essere trovato entro fine mese, è ancora lontano, mentre la sorte del Governo è sempre incerta. Il nodo Berlusconi incombe minaccioso sulla legislatura.